Buongiorno e ben trovati in questo lunedì 4. Siamo pronti per le prime pagine delle varie testate nazionali e locali, come sempre inizieremo con la cronaca ma poi tanto spazio allo sport con la gazzetta, con il Corriere e poi con le pagine dei quotidiani locali e vedendo anche diversi servizi tornando alle gare di sabato in particolare di Pescara e Teramo e poi alle partite di ieri con il pareggio dell'Aquila con la Maceratese e le partite di Serie D, in primo piano il derby tra Giuliano Vecchieti finito con un 3-3 che però non serve a nessuno. Poi chiaramente anche il basket con la sconfitta di Roseto a ferrare la vittoria sul filo di lana con un tiro da 3 di Monaldi della Progerchieti, una vittoria che consegna la salvezza alla squadra di Massimo Galli. Iniziamo la nostra rassegna dunque con le testate nazionali e con il Corriere della Sera, i conti segreti dei 12 leader, soldi a Panama del clan Putin e dei vertici cinesi. Nella lista Messi e Platini, nel dossier sovrani imprenditori, nelle carte di 200 società offshore in 21 paradisi fiscali, citati 800 italiani. E poi sotto la testata i dubbi di Renzi sulla linea dei PM sono pronto a farmi interrogare. Il Premier, l'emendamento è mio, la Procura c'era un comitato di affari e poi l'editoriale di Gian Giacomo Schiavi, il valore economico del bene. In basso, oltre alla fotonotizia dedicata alla sconfitta di ieri del Napoli, Napoli affonda, la Juve verso lo Scudetto, Iguain perde la testa, Milan e Inter in crisi. Leggiamo qui, Caffè e Amici, il Decalogo per l'Espatrio, un manuale di sopravvivenza per i giovani che lasciano l'Italia alla ricerca del lavoro. E poi sarà un tema ovviamente diffuso soprattutto sui quotidiani sportivi, l'addio a Cesare Maldini, l'eroe rosso-nero, aveva 84 anni e si è spento nella notte tra sabato e domenica. Andiamo ora a vedere la prima pagina della Repubblica, Panama, ecco i conti segreti da Putin ai big del pianeta, i tesori offshore di presidenti, re e star come messi, l'Espresso, 800 italiani. E poi Renzi a IPM, quella norma l'ho voluta io, la Guidi incontrò i manager total, lobby, nessuna legge, tanti affaristi. E poi la Juve va in fuga, Iguain perde la testa, Napoli di K.O., il fuoriclasse cerca la rissa con l'arbitro, calcio in lutto per Maldini. E poi in basso pensioni e scontro sulla solidarietà e da quest'altra parte difendiamo l'acciaio per salvare noi stessi. La prima pagina del giornale che andiamo a vedere, caso Petroglio, la grande balla dei poteri forti, la Boschi denuncia oscure macchinazioni contro il governo per coprire i suoi guai. Renzi fa il bullo in tv e coi PM, l'emendamento incriminato è mio, vengano a interrogarmi. E poi il commento di Paolo Granzotto, quella toleranza che apre la porta a tutti gli orrori. E poi ancora, pensioni fai da te, quelle che fruttano di più, il solito ritornello con una foto di Fiorella Mannoia, tra stecche e complotti, la morale alla rovescia della vispa Teresa Rossa. E poi i paperoni smascherati dove nascondono i soldi VIP del mondo, ci sono i nomi di Cameron, Putin e Messi, tra gli italiani Luca di Montezemolo. E poi finale di partita di Giuseppe De Bellis, Maldini e Florenzi, l'evoluzione del Capitano. La prima pagina ora del Fatto Quotidiano, o meglio, le mail inguaiano la Boschi, le prove che la norma Tempa Rossa fu dettata da Total, Shell e Deni. Sotto la testata, anniversari, Chernobyl, 30 anni, la paura nucleare entrò nelle case. Il regime disse due morti, ma furono molti di più. Svolta epocale, il derby Lazio-Roma, il pubblico abolito dalle geniali autorità. I tifosi sono pregati di restarsene in poltrona. E poi i Panama Papers, i tesori nascosti dei potenti da Putin a Montezemolo. In basso, imbarazzo nel PD per il mafioso, allo scrittore Veltroni contro l'unità, grave, insultare Saviano. Poi in basso, tre chic, quando l'oscenità è ai nostri piedi, scalzi d'inverno, ecco la nuova moda della pelle scoperta. Andiamo a chiudere questa prima parte, andando a vedere la prima pagina anche della versione nazionale del messaggero. Anche in questo caso ci sono le parole del Premier Renzi a dare il titolo d'apertura. Renzi, l'emendamento è mio. Il Premier pronto a essere ascoltato dai PM di Potenza. Oggi i primi interrogatori, boschi e guidi in settimana, intanto dai tre filoni dell'inchiesta emerge una rete affaristica per condizionare gli emendamenti sull'energia. E poi, sotto la testata, scontro in famiglia, Silvio Muccino, Gabriele Violento per favorirlo dichiarà il falso. Calcio in lutto, addio Maldini, bandiera del Milan e un'intera vita passata in nazionale. Un voto sterile quando l'abuso referendario genera mostri di Massimo Teodori. Fotonotizia sul derby. La Roma domina il derby 4 a 1. Lazio nel caos esonerato Pioli. Napoli K.O. Giallo Rossi a meno 4. Stadio vuoto. Tutti a testaccio. Poi, svelato il network dei paradisi fiscali riservati ai potenti, nelle carte di Panama Papers, anche i nomi di Putin, Cameron, Poroshenko e Jinping. Dopo l'attentato, Bruxelles riparte. Aperto l'aeroporto. In basso, esplosione al bar Ciampini. Terrore in centro. Una vittima al centro di Roma. Possiamo andare ora con le prime pagine del quotidiano Il Centro. Le prime pagine delle varie edizioni, partendo dall'edizione di Chieti. Bar distrutto con l'auto bruciata. Ad Atessa il veicolo rubato è dato alle fiamme per danneggiare il locale. E poi ancora, questo editoriale di Raffaele Bonanni. Le idee. Riapriamo il confronto sulle pensioni da parte dell'ex leader della CISL. La fotonotizia al centro. Chieti solo pari nel derby. Playoff più lontani. Finisce 3-3 con il Giulianova. Richiami di cronaca. Chieti, la città che non va, terminal dei pullman, disservizi e pericoli. Al policlinico dona il fegato e salva un uomo di 60 anni. E poi crolla un altro balcone. All'Aquila, il piano case di Berlusconi e Bertolaso si sgretola. Il buongiorno Abruzzo di Antonella Formisani, ex calciatore ed ex frate. Ora aiuta l'Africa. Andiamo con la prima pagina dell'Aquila. Progetto case, un altro crollo. Il comune allarmato dispone sgomberi e traslochi. C'è l'editoriale di Marina Marinucci, quelle case di cartapesta agli sfollati. E poi alcuni richiami. All'Aquila precipita un elicottero, due feriti per il calcio. L'Aquila pari con la terza in classifica. La retata, altra inchiesta sugli appalti di Tagliacozzo. E poi qui sotto la foto causa l'incidente arrestato. Il ragazzo positivo al test alcolemico. Grave una sua amica. Ed ora abbiamo la prima pagina dell'edizione Terramana. Meno interventi primari in rivolta. I direttori di 15 reparti minacciano di non firmare gli accordi con la ASL. C'è il Giulianova in prima pagina. Giulianova un pari inutile. Il baratro è vicino. E poi sempre Giulianova, ma per quanto riguarda la cronaca, stangata Tari, saltano tutte le agevolazioni. All'Alba Adriatica chiuse le indagini sulla sparatoria. E poi sempre il riferimento al crollo di un altro balcone all'Aquila. La prima edizione ora di Pescara. Andiamo dunque a vedere la prima pagina. Il titolo di apertura. Soldi sottratti alla società di calcio. Condanna per Serraiocco, ex assessore e presidente della Folgore. E poi la fotonotizia. Il chirurgo premiato dal suo paziente, medicina Abruzzo, le eccellenze della sanità in provincia. I richiami di cronaca. La City sul mare cancella i distributori. La regione rivuole le aree. E poi strade dissestate. Il comune cerca soldi. Interviene il sindaco Alessandrini. E c'è un altro riferimento anche nella prima pagina dell'edizione di Pescara sul crollo di un altro balcone all'Aquila. All'interno del centro, la pagina 7, pagina Abruzzo. L'argomento è il turismo. I nodi della stagione alle porte. L'Abruzzo si vende bene. Peccato per i collegamenti. Gli operatori di mercato puntano sui pacchetti natura, borghi, enogastronomia. Abbiamo tutto ma servono nuove idee. E su treni e aerei si decide senza sapere. Poi c'è la presa di posizione di Tomei, di CNA Balneatori. Combattiamo con i danni di immagine 2015. Avanti ancora, a Barete, la residenza dei detenuti psichiatrici nel paesino di 662 abitanti dell'Aquilano, si inaugurano i mini appartamenti per 20 pazienti, 3 donne, seguiti da 25 operatori sociosanitari. E poi il nuovo coordinatore di Abruzzo Civico che appunto riparte con Cassone. Avanti ancora con le pagine di Pescara e Provincia. la City sul mare cancella i distributori di benzina. La regione vuole rientrare in possesso delle due aree strategiche a nord e a sud del ponte del mare. I tempi a maggio appena ultimato l'edificio della finanza. Il parere dell'urbanista Palladini, ma la zona è vocata al mare. Poi ancora, abbiamo visto anche il titolo d'apertura dell'edizione pescarese del centro, soldi sottratti alla società di calcio Serraiocco nei guai, l'ex assessore condannato in primo grado. La vicenda risale al 2009 quando era presidente della Folgore. L'avvocato Croce, a giorni presenteremo il ricorso. Sentenza strana, sulla sua carta di credito non c'è alcuna prova. Si risolverà in appello. Poi ancora il TAR, niente sosta gratuita per i residenti, respinto il ricorso presentato dai cittadini dopo l'istituzione degli abbonamenti a tariffa ridotta. Avanti ancora, i soldi per le buche non ci sono. Alessandrini, il Comune non può intervenire su tutte le 400 vie della città, ma qualcosa si riesce a fare. E poi ancora, Alcione diventa un caso su Facebook. Il titolare si difende, ho finito i posti, nessun divieto agli over 55 in spiaggia. Premio medicina, la sanità abruzzese omaggia e ringrazia le sue eccellenze. La sala della provincia è gremita per la consegna delle targhe, riconoscimento alla carriera al dottor Achille Lucio Gaspari. Avanti ancora, ubriachi alla guida, la stradale ritira quattro patenti. A Francavilla, servizio preventivo della Polstrada, invia l'Alcione sulla statale 16. Il comandante Cipriano, particolare attenzione alla velocità e all'uso del cellulare. A Montesilvano, riviera in festa, fa il pieno di pubblico. Lungomare senza auto, all'insegna di solidarietà e prevenzione. Domenica si replica, pagina di Chieti, segretaria dell'Ateneo, record di funzioni. Adesso sono 34, l'ultima l'è stata conferita dal direttore generale del Vecchio, i sindacati. Nessuno ci ha avvertito, ancora malumori tra i lavoratori per le scelte autonome dei vertici universitari. Per la cronaca danno fuoco all'auto per incendiare il bar, ad Atessa il veicolo è stato rubato e bruciato sabato notte. Le fiamme hanno distrutto l'esterno del locale. E poi ancora, dona il fegato e salva un uomo di 60 anni. L'espianto effettuato nel policlinico di Colle dell'Ara, Fasciani dell'Aido. Gesto di grande generosità. La pagina, o meglio, le due pagine sull'Aquila e provincia. Cese di Preturo, progetto case, crolla un altro balcone. La dirigente comunale De Paulis, via lo sgombero di altre 12 piastre e trasferimento per 138 nuclei familiari. La situazione monitorata in questi mesi è ormai allarmante. Già pronta l'ordinanza del sindaco. A Sulmona provoca un incidente. Viene arrestato il ragazzo positivo al test alcolemico. Ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata. Ha ferita gravemente una 22enne. Secondo la nuova normativa, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Chi, guidando non sobrio o non lucido, procura delle lesioni permanenti a terzi. Poi ancora precipita un elicottero, due feriti lievi, momenti di paura all'aeroporto di Preturo. Il velivolo ultraleggero si è incrinato in fase di atterraggio. Chiudiamo con la pagina di Teramo. La sanità che cambia. Luci e ombre. Primari in rivolta. Chirurgie costrette a operare di meno. Se la situazione non cambia, tutti i direttori delle 15 divisioni non sottoscriveranno l'accordo con la ASL sui budget 2016. E poi, tunisino ucciso, il PM chiude le indagini sulla sparatoria di Alba. Finiamo per ora con il centro. Andiamo ora con il messaggero Abruzzo. Finito il quale faremo il break meteo con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Questa è l'apertura del messaggero Abruzzo. Panama Papers e conti offshore trulli nell'elenco. Enorme falsità. Clienti VIP e paradisi fiscali. Il manager Iarno non ha mai nascosto soldi a nessun erario. E poi la fotonotizia. Progetto case. Crolla il terzo balcone. Il comune sgombera. Altre 12 piastre. E poi ancora di spalla la convention di Borrelli e il dispetto di Sottanelli. Si presenta a Chieti MCA con i tre pezzi da 90 regionali e metà direttivo dell'Italia dei valori MCA Movimento Civico Abruzzese. Sotto la testata basket. Sharks sconfitti in volata a Ferrara. Proger che Monaldi salvezza ipotecata. Pescara. L'Etiope Adugna vince Vivi Città in gara di Sabili con la bici speciale. Calcio. Lega Pro pari con la maceratese. L'Aquila si morde i gomiti. E poi ancora a Report Confindustria doppia. Gogna all'interno del messaggero Abruzzo. Provincia. Comune lite da un milione. Dopo l'Imu scontro bis sulle spese del centro per l'impiego a Palazzo dei Marni si rischia un ammanco pesante in casa. L'amministrazione cittadina dovrebbe contribuire ai costi ma in assenza di accordi i due enti finiranno in tribunale. La somma è stata prevista in bilancio dalla giunta del Presidente Di Marco a Palazzo di Città. Si punta al contenzioso. Situazione iniziata dai primi anni del 2000 è mai risolta neppure in presenza di coalizioni amiche. E poi la festa di ieri di Vivi Città. L'Etiope a Dugna trionfa a Vivi Città in gara di Sabili con la bici speciale al Via 1300 Atleti. Il sindaco Alessandrini starter e podista. Successo rosa per Ornella Marini. In settimana torneremo a parlare appunto di questa manifestazione. Umbriachi al volante, ritirate quattro patenti, Polstra di Nazione a Francavilla tra l'alcol test, revisioni e assicurazioni a un neopatentato tolti 20 punti. L'Aquila cese, crolla un altro balcone, vanno evacuate 150 famiglie. Il boato di fronte alla piastra 19 in cui ci fu il primo episodio un anno e mezzo fa. In alcune palazzine a Roio sono stati riscontrati problemi con la legionella. La dirigente De Paulis sottoporrò al sindaco l'urgenza di firmare l'ordinanza di sgombero delle piastre che sono in fortissimo degrado. E poi ancora nella pagina della Marsica, anche se qui siamo più precisamente a Sulmona, ubriaco, causa incidente, arrestato. In prognosi riservata il protagonista, 24enne, una passeggera che viaggiava nella sua auto. Ferite anche altre due persone, Sentigliano Allulli, albanese, da tempo a Pratola. E' uno dei primi in Italia a dover rispondere di lesioni personali stradali. Il terribile schianto è avvenuto nei pressi di un passaggio a livello. Pagina di Chieti, edifici e monumenti oltraggiati con lo spray in giro per la città fra vandalismi e danneggiamenti, scritte su panchine e palazzine, vernice celeste sulla recinzione della Civitella. Ecco qui alcuni degli scatti da cui appunto tragano origine l'articolo. E' appunto il titolo che abbiamo appena letto. A Lanciano, ZTL, caos in corso Roma, la protesta dei genitori. Parte il divieto di transito nei pressi delle scuole. Pronta la manifestazione. Pagina di Teramo. Dipendenti province, gli stipendi sono a rischio. Ancora troppi ritardi nel passaggio delle funzioni in regione. Ancora 40 addetti rimasti negli uffici per i settori caccia, pesca, turismo, polizia e portale web. Massimiliano Bravo della RSU Via Milli di Sabatino non ha avuto alcun fondo da D'Alfonso. Parco, la branella attacca. Siamo a Giulianova. C'è uno sponsor privato. L'ideatrice di Unica Beach lancia un altro siluro alla giunta comunale. Ci fermiamo qui per quanto riguarda la cronaca con il messaggero Abruzzo. Io vado ora a salutare e dare il buongiorno a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Ciao Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Subito le ultime sul fronte meteo. Partiamo da come eravamo rimasti nel fine settimana, ovvero una situazione meteorologica caratterizzata dalla presenza di una vasta area di alta pressione che interessa soprattutto le regioni centro-meridionali e favorisce condizioni di tempo stabile anche sulla nostra regione. Ovviamente con l'alta pressione però c'è la nebbia che si manifesta soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione, in particolar modo lungo le coste e sulle zone collinarie che si affacciano sul versante orientale. Una situazione invece ben diversa nell'Aquilano sul settore occidentale dove splende il sole o tutt'al più ci sono degli annumolamenti di nubi alte e stratificate che non producono precipitazione di rilievo. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori schiarite nell'Aquilano e sulla Marsica con temperature ancora di sopra delle medie stagionali con valori più elevati rispetto alla fascia costiera e al settore orientale perché il settore orientale continuerà ad essere interessato dalla nebbia che tuttavia potrebbe attenuarsi soprattutto durante le ore centrali della giornata. Poche novità nel corso della giornata di domani, la nostra regione continuerà ad essere interessata dall'alta pressione anche se pian piano il tempo inizia a cambiare, a peggiorare perché si va formando, si formerà una circolazione depressionaria ancora una volta tra l'Algeria e la Tulisia che poi risalirà a partire da mercoledì sera nella giornata di giovedì verso le regioni centro-meridionali, favorendo un nuovo peggioramento del tempo sulla nostra regione che probabilmente si protrarà almeno fino alla serata di venerdì e nella giornata di sabato. Una situazione che poi comunque analizzeremo nel corso dei prossimi aggiornamenti. Andrea. Caro Giovanni ti sento più pimpante, dipende dalla partita di sabato scorso? Sicuramente è stata una partita vinta con una certa sofferenza, soprattutto per il secondo tempo dove è subentrata una certa paura di non vincere quella partita che era chiusa e invece è stata riaperta tramite un'altra leggera disattenzione difensiva. Ma comunque quel che contava era vincere, era molto importante vincere perché questa vittoria in chiave di morale può dire tanto a questa squadra che può riacquistare un po' di fiducia nei propri mezzi perché secondo me questa formazione ha tutte le potenzialità non solo per centrare i pre-off ma per guardare oltre. Quindi adesso questa vittoria è stata importante, l'unica cosa purtroppo riguarda le assenze che ci saranno per venerdì, vuoi per infortunio, vuoi per le squalifiche, insomma quindi una situazione questa è un pochettino insidiosa, una trasferta insidiosa in un campo dove solitamente non abbiamo una buona tradizione. Però insomma vediamo, la partita va giocata, io credo che già c'è una fiducia in più e torna il morale più alto in questa squadra. Sono ottimista, Andrea. Si sente dalla voce squillante di questa mattina. Grazie Giovanni. Buon lunedì. Una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie, grazie a Giovanni De Palma. La Gazzetta dello Sport, andiamo a vedere la prima pagina. Il Napoli crolla, Festa Juve, Fernandes doppietta, guida i friulani alla vittoria, Sarri critico sugli orari e c'è il problema Higuain, espulso, rischia almeno tre turni e Allegri gode. Poi intorno al titolo principale altri titoli. Milan disastro a Bergamo 2-1, Mica in ritiro, Inter che botta, perde col toro 2-1, addio Champions, poi addio Cesare, maestro di calcio. Roma, Turbo, ora punta il secondo posto via Pioli. E poi il commento di Luigi Garlando, le colpe, i limiti e gli alibi dannosi. Poi continua la favola, che ormai non è più tanto favola, del Leicester in Premier. Ragneri batte anche Pellè e il suo Leicester vola a più 7. Ma è stato un weekend importante anche per i motori. MotoGP in Argentina, Marquez se ne va, Arachiri delle Ducati e Rossi secondo. Ringrazia Formula 1 in Bahrain, Rosberg e Miro, Raikkonen secondo. Vettel in Fumo, Gran Ciclismo, Super Sagan, Re del Fiandre, Ciao Cancellara. Entriamo all'interno della gazzetta, Juve è quasi fatta, Napoli, ciao Scudetto, sorrisi a Vinovo per il più 6 alla TV, ma niente feste. Testa al Milan e poi follia Higuain con Irrati, espulso, rischia almeno tre turni. Siamo convinti che ieri qualcuno vedendo la partita tra Udinese e Napoli al momento dell'espulsione di Higuain ha pensato anche a quanto fatto dal calciatore del Pescara Benalì, che anche egli rischia una pesante squalifica per quanto fatto per la reazione a dir poco scomposta dopo il fischio finale della partita e dopo il fallo commesso da Bessa e la lite furibonda che si è scatenata. Staremo a vedere, dovremo aspettare però domani per sapere le decisioni del giudice sportivo di Serie B perché questa sera si gioca anche Bari-Cesena. Andando avanti c'è il derby, ecco qui la Roma vede il Napoli e Sogna, la Lazio strapazzata, Pioli a casa. E poi premiata ditta Elcia e Perotti, il nuovo avanza e oscura GECO, sono appunto i due rinforzi invernali della Roma. E poi il secondo posto è dura ma c'è lo scontro diretto, dice appunto Spalletti. Lazio nel caos, scontri a Formello, paura per Lotito. Inter da pazzi, segna, domina, poi solo Toro e il terzo posto, ora è un sogno. Mauro porge la mano, Maxi replica da Villano, però stavolta vince lui, sempre nella carelle viva tra Mauro Riccardi e Maxi Lopez. Andiamo avanti, evaporato il Milan in castigo, rimonta Atalanta e crisi rossonera, Europa a rischio, ora tutti in ritiro. Se non cambiamo non ne vinciamo più una, sono le parole di un amareggiato Mihailovic. E poi la due pagine ovvia, dovuta, ci mancherebbe verso un grandissimo personaggio del calcio italiano che se n'è andato proprio ieri, addio Cesare Maldini. Capitano dei campioni, vinse col Milan a Wembley. Maldini una vita da bandiera e qui una serie di foto che ritraggono i suoi momenti più belli, sia da calciatore, il primo capitano di una squadra italiana ad alzare una Coppa dei Campioni. E poi anche i suoi momenti da selezionatore dell'Under 21, da CT della Nazionale Italiana, poi anche da CT del Paraguay. Dalla sua Trieste a lontano Paraguay, cordoglio planetario per il gran signore, appunto, Cesare Maldini. Vediamo anche le pagine degli altri sport, ecco qui siamo al Gran Premio del Bahrain, Rosberg e Miro nel deserto, Ferrari allarme affidabilità, Nico Timbra la seconda vittoria 2016 approfittando della giornataccia di Lewis. Stavolta tocca a Seb il guai al motore, Raikkonen secondo. Seb che domenica nera, il fumo ed è subito finita, non ho neppure sudato, all'improvviso ho sentito che il motore perdeva potenza, poi Kimi un mistero, la partenza lenta, non era facile riprendere, Nico. Andiamo anche con la MotoGP, Marquez balla, Iannone sbaglia e Tango spagnolo, mentre le Ducati si auto eliminano e Rossi ringrazia. Andrea contro Andrea, mi scuso, non volevo, sapete ciò che penso, insomma, Iannone dovizioso ieri, questo scontro in pista proprio alla fine del Gran Premio. Già che ci siamo, Sagan monumentale con le note di Guerre Stellari, l'Iridato vola, il Fiandre è suo, Peter Sagan dunque si aggiudica il Fiandre. È il momento di fermarci, pubblicità, poi vediamo un po' di Corriere dello Sport, pagine locali e servizi. Di nuovo buongiorno, Corriere dello Sport, la prima pagina, Juve C6, Napoli cade, massimo vantaggio bianconero, Udinamara per Higuain, gol ed espulsione rosso anche a Sarri, Allegri resta a più 6, ex Juventini in coro, Scudetto ormai è fatto. L'opinione di Alessandro Vocalelli, un capolavoro, la risalita dei campioni. Sotto la testata a Roma travolgente, Lotito, licenze a Pioli, derby a Spalletti, panchina Lazio a Simonin, Zaghi, Inter e Milan crollano per i rossoneri, ritiro a oltranza. È morto Maldini, aveva 84 anni, ciao grande Cesare, leggenda e bandiera. Alzò la prima coppa campioni del Milan e poi la carriera azzurra, vinse tre europei con l'Under 21 ai mondiali del 98, uscì per un rigore. Formula 1 in Bahrain, Rosberg padrone, poi c'è Raikkonen, in fumo la Ferrari di Vettel, pasticcio Ducati, Valentino secondo, vince Marquez, cade Lorenzo. All'interno, ecco qui Iguain, gol, rabbia e lacrime, il Pipita adesso va verso la squalifica, pagina 3, Juve, ci siamo, lo Scudetto è lì. Andando avanti, Sarri Dura alle 12.30, non si può. Ancora avanti con il Corriere dello Sport, qui siamo appunto alla pagina sulla Lazio. Il cambio oggi a Norcia c'è in Zaghi, lo titolo furioso spedisce la Lazio in ritiro con un nuovo allenatore. E per gli scenari futuri, adesso tutti dietro a Mihailovic. Andando a vedere gli sport dei motori, Vettel a terra, motore arrosto, una grande fumata bianca, lo ferma nel giro di ricognizione. La Ferrari si consola con Kimi secondo, vince ancora Rosberg e poi è frustrante non sudare, dice lo stesso tedesco della Ferrari. Un GP pazzesco, Marquez va, Rossi quasi, gara divisa in due per avere gomme sicure. Prima è show, poi Vale si perde ma finisce secondo. Secondo, Jannone, mi dispiace per Dovi e per Ducati, che peccato buttare lì, buttare il podio così, ma non c'entra la pressione. Questo appunto dice il pilota vastese della Ducati. Possiamo fermarci qui con il Corriere dello Sport, andiamo con il centro e con il messaggero, con le pagine che riguardano il Pescara. Intanto ripartiamo dall'inserto noi di Sport. Pescara risale, Lanciano nei guai, la squadra di Oddo cerca conferme ad Avellino, Campagnaro out, la Virtus vuole ripartire. Poi, gli altri titoli, festa salvezza per la Proger, cade il Roseto, per i direttanti, e non solo in questo caso, perché si parla di Lega Pro, l'Aquila, un pari e tanti rimpianti con la Maceratese, Serie D, finisce il 3-3, il derby, Gironovacchietti sconfitte le altre, eccellenza, l'Avastese non sa più vincere e il paterno s'avvicina. E ora andiamo a vedere le pagine sul Pescara, dopo il ritorno alla vittoria, Pescara è già prova del 9 nell'anticipo di Avellino, nuovo forfè di Campagnaro, oggi gli esami, rischio stangata per Ben Ali, la Padula torna trascinatore, in città gli dedicano anche un cocktail. Eccolo qui, il cocktail La Padula, cachaça, lime, passoa, succo d'arancia, così diamo anche la ricetta appunto di chi ha voluto inventare questo cocktail, chiamato appunto La Padula, come il capo cannoniere del Pescara e del campionato. Il baffo del delfino, l'emergenza si batte col coraggio, scrive Antonio De Leonardis, poi vietata la trasferta per i tifosi precedenti sfavorevoli, atteso il verdetto del comitato per la sicurezza. Vediamo anche il messaggero Abruzzo sul Pescara, ecco qui Pescara meglio ma non basta, interrotta la serie negativa, i biancazzurri devono crescere in fretta come gioco e personalità per risalire la classifica. E' importante per la squadra di Oddo ritrovare la leggerezza mentale del girone d'andata per tornare a giocare in avanti. Campagnaro in dubbio anche per Avellino, per lui una contrattura nel primo tempo con il Como, bisogna valutarne l'entità nelle prossime ore. Brutta la reazione nervosa di Benarì mentre le note positive arrivano in difesa da Vitturini e Mandragora. Sul fronte invece delle decisioni societarie il presidente pensa a Luca Leone e poi in basso un mese decisivo con cinque scontri diretti restano da giocare otto partite e il calendario dei biancazzurri si presenta molto complicato. Vediamo e ascoltiamo le parole del capitano Leian Memuschai dopo il ritorno alla vittoria. Una vittoria comunque importante perché bisognava dopo nove gare tornare al successo, all'augurio che questa vittoria possa essere servita anche per sbloccare psicologicamente la squadra visto che molti dicevano che era un problema soprattutto psicologico. Sicuramente una vittoria come avevo detto prima che ci voleva, ora però bisogna continuare perché se no non servirebbe a niente. Speriamo che sia da auspicio. Abbiamo fatto secondo me un gran primo tempo e il secondo ci sta di soffrire. L'importante era vincere perché abbiamo giocato altre volte dove abbiamo giocato bene e abbiamo perso. Ora a questo giro magari il secondo tempo abbiamo giocato un po' meno bene però abbiamo vinto. Cosa è successo al novantunesimo? Quella gigantesca rissa, tanto nervosismo anche negli ultimi minuti. C'è stata l'espulsione di Benarì. Perché c'è stata questa rissa? Purtroppo sono cose di campo che non devono accadere però ci stanno, fanno parte del gioco e arrivare al novantesimo a essere lucidi è impossibile. Purtroppo dispiace però anche Ben ha fatto male a reagire però un po' lo capisco perché ha preso un calcio al novantesimo e dura al novantesimo essere lucidi. In queste giornate qua hanno inventato talmente tante storie assurde quindi è un peccato perché questo gruppo qua è un gruppo eccezionale, fantastico e anche quando c'è stato delle cose non vere non si è mai abbattuto. È sempre stato sul pezzo. Purtroppo i risultati non ci hanno dato favore. Sempre sul messaggero Lanciano la salvezza passa per Di Francesco. Il giovane tornerà a disposizione sabato contro Lentella. Senza di lui in campo sono arrivate due sconfitte consecutive. Il difensore regione basta recriminare per i torti subiti che sono evidenti. Facciamo vedere il nostro gioco. Per la Lega Pro l'Aquila grande con le big. I rosso-blu al fattore impongono il pari alla lanciatissima maceratese. Si può ben sperare per la lotta salvezza. Poi ancora il 3-5-2 regge bene l'errore di Perna. Ora 5 partite e 4 scontri diretti. Nelle valutazioni bene in particolare Milicevic e Bulevardi. Milicevic autore del gol del pareggio dagli 11 metri. Le parole del tecnico Perrone bene così decideranno gli scontri diretti. Era la partita più difficile da affrontare fino alla conclusione. Parla anche l'autore del gol Milicevic. Buon punto contro una rivale molto forte. Torniamo al centro. Anche in questo caso per vedere le pagine sull'Aquila. L'Aquila è il punto dei rimpianti. I rosso-blu rimontano con un rigore di Milicevic dopo il vantaggio iniziale della maceratese. San Domenico a secco. Ennesima occasione sprecata per tirarsi fuori dalla zona play-out. Cambi tardivi. Nella ripresa la squadra ci prova ma senza trovare la via del gol. Voto 7 per Scotti. Voto 5 per l'autore dell'autogol Maccarrone. Poi bene Bulevardi e Milicevic che prendono 6,5. Per il resto comunque sufficienze. Pesoli scommette sulla salvezza. Possiamo risalire la china. Perrone si accontenta. Noi bravi a reagire. Il tecnico dell'Aquila aspetta gli scontri diretti. Speriamo di arrivarci bene. La prossima sfida, domenica prossima alle 15, è in casa del Prato. Terzo ultimo in classifica. Sarà scontro diretto dunque. E allora rivediamo le fasi salienti della partita di ieri del Fattori. L'Aquila Maceratese. Guardando la classifica un punto prezioso per l'Aquila contro la Maceratese e terza forza del campionato. A conti fatti però i rosso-blu di Perrone possono recriminare per diverse azioni da gol cestinate nel finale e per un atteggiamento che ha fatto difetto in aggressività per una buona parte della contesa. Perrone conferma a sorpresa il 3-5-2 di Teramo, cambiando però in difesa con l'innesto di Maccarrone per Piva, dirottato come quinto di centrocampo al posto di Ligorio. Davanti confermato il tandem San Domenico-Perna, anche oggi fischiato per diverse imprecisioni sotto rete. Partita poco vibrante, ricco possesso palla della Maceratese che però non riesce a trovare sbocchi. La chance più ghiotta capita sulla testa di Perna dopo la mezz'ora, che dalla sinistra raccoglie un traversone e schiaccia di testa, forte battuto in uscita, ma non c'entra il bersaglio. Nel finale arrivano i due gol che sigilleranno il punteggio sull'1-1. Prima Maccarrone si rende protagonista del vantaggio della Maceratese. Buonaiuto, crossa da sinistra il centrale siciliano per anticipare il tapin di Couco, fa centro nella propria porta in scivolata. 0-1 e buio pesto sugli spalti del fattori. I rosso-blu però hanno il merito di reagire immediatamente. Minicevic, dirottato playmaker con Mancini-Mezala, ci prova dalla distanza. Sul rimpallo Perna si avventa sul pallone e anticipa in uscita forte che lo abbatte ingenuamente. Penalti per l'Aquila sul quale va lo stesso Milicevic sotto gli occhi del presidente del Pescara Sebastiani e fa centro dagli 11 metri per l'1-1. Nella ripresa c'è più brio. La Maceratese sale di intensità atletica. L'Aquila invece scende dal punto di vista fisico e non riesce a ripartire. Al diciottesimo Couco serve sul dischetto del rigore Bonaiuto che cestina il nuovo vantaggio degli ospiti. Poco più tardi Milicevic va via in tunnel, scorribbanda fino al limite dell'area, poi San Domenico. Si fa rimpallare la conclusione. Sul proseguo dell'azione Perna poi la mette fuori al lato di testa. Ci riprova ancora la Maceratese con Couco. Mascotti risponde presente in tuffo. I rosso-blu sembrano alle corde. Perrone allora si ricorda dei cambi e dopo la mezz'ora fa entrare prima Benzaglia per un applauditissimo Milicevic. Quindi Triarico per Perna nel ruolo di trequartista dietro San Domenico. È la mossa vincente. L'Aquila colleziona due grandi occasioni in sequenza. Prima Triarico sguscia sulla sinistra. serve un cioccolatino per Bulevardi che in sforbiciata chiama l'intervento in angolo forte. Poi Maccarone esce palla al piede e serve San Domenico il cui diagonale rasoterra viene deviato in modo provvidenziale dal portiere marchigiano. È l'ultimo sussurto. Finisce 1-1 per l'Aquila un punto importante. Ma che peccato perché si poteva prendere il bottino pieno. Sempre Lega Pro ma parliamo di Teramo. Teramo vede la salvezza e pensa alla prossima rosa. L'undicesimo pareggio stagionale porta a 9 punti dalla zona play-out. Attesa per il futuro di Vivarini. Lupo sempre in poll come direttore sportivo. Andiamo sul messaggero. Teramo pareggiare così è roba da scemi. La fredda analisi di Cruciani. Abbiamo incassato il gol appena 30 secondi dopo la nostra rete del vantaggio. Adesso tutto diventa più complicato. La matematica salvezza non c'è ma dovevamo commentare un altro tipo di campionato. E anche in questo caso si parla di futuro lupo in pole position per l'incarico di DS. Torniamo però alla gara con il Rimini. Ascoltiamo proprio le parole del centrocampista Michel Cruciani. L'anno un po' a balorde tra Benevento e qui. Benevento ho quattro traverse. Qui non riesco mai a impizzicare. Neanche a dimmi appizzicare un più di fortuna. Soprattutto il primo tiro penso che se non l'avessi deviato entrava sicuro. Nonostante deviazione è uscito da un pelo dal palo. E vabbè speriamo che prima o poi mi gira un po' meglio. Penso che sotto l'aspetto di azioni da goal, sotto ecco, quello sì. Però penso che la voglia di far bene, di poter provare a vincere la partita, quella è sempre stata. Siamo stati ingenui. Ingenui perché hai detto bene, in una partita diciamo che fai fatica a trovare conclusioni, a trovare viete per tirare in porta, riesci ad andare in vantaggio. Non si può prendere dopo 30 secondi. Sicuramente dovevamo fare qualcosa di più. Però penso che sia come tutte le altre partite. Ancora una volta con un tiro in porta abbiamo preso la goal. Poi puoi farne di meno tu, però penso che su 90 minuti tieni polla. Non dico 90, ma 85 minuti tieni polla tu. Poi in una partita un po' di più, una partita un po' di meno trovi magari, però siamo sempre stati poco fortunati. Questa è la verità, c'è poco da dire. E ingenui perché oggi siamo stati ingenui. La Serie D, ripartiamo dal messaggero Amiternina, beffa interna, tempo scaduto. La Iesina e Corsara al secondo minuto di recupero con Sassaroli. San Nicolò, K.O. a Isernia, nonostante l'uomo in più. I terramani inguardabili, passo falso in chiave playoff. Sorpasso Re Canatese, che in realtà c'era già stato. Giulianova e Chieti, pari bello ma inutile. I giallorossi restano ultimi in classifica, nonostante il K.O. interno della Amiternina. Per i neroverdi si allontana la zona playoff. Pioggia di gol, il pubblico è soddisfatto. Ci sono anche le reazioni in sala stampa. Di Stefano ha sempre superato le critiche. Marino, Tecno e Chieti. Che rischi nonostante i tre gol? Avezzano, K.O. di misura a Fano, Lucarelli. Così ci salviamo. Sul centro, chiaramente la vetrina sul derby del Fadini. Ecco qui il pari che scontenta tutti. Il pirotecnico 3-3 tra Giulianova e Chieti non avvicina agli obiettivi. Il 47esimo confronto tra Giallo Rossi e Neroverdi, caratterizzato dalle distrazioni difensive su entrambi i fronti. Espulso il giuliese Alessandroni per una gomitata ai danni del capitano del Chieti, del Grosso. E poi ancora le interviste del Grosso sgomitato. Questi i nuovi del Giulianova. E poi ancora l'Avezzano cade a Fano e la nona sconfitta esterna. Decide la sfida un gol di Ambrosini al quarto d'ora del secondo tempo. L'allenatore Lucarelli, buona partita, avremmo meritato il pareggio. San Nicolò inciampa ai segni, Epifani recrimina. Il rigore non c'era. E poi la Miternina è in caduta libera. La Jesina passa nel recupero. E allora vediamo i servizi relativi al pareggio del Fadini tra Giulianova e Chieti. E poi la sconfitta dall'Avezzano a Fano 1-0. In un derby che ha regalato emozioni e sei reti, Giulianova e Chieti si annullano con un 3-3 finale che non serve veramente a nessuno, decretando la quasi retrocessione del Giulianova in eccellenza e allontanando forse definitivamente i play-off per la squadra di Marino. Le due squadre ci hanno provato in un match che ha visto un Giulianova più determinato nel primo tempo ed un Chieti migliore nella ripresa. Pochi intimi sugli spalti per il derby del Rubens Fadini con meno di 400 presenti, fra cui una cinquantina di sostenitori teatini. Pronti via e al nono la squadra di casa è già in vantaggio grazie a Pellecchia che su punizione dai 18 metri prima del limite buca la barriera e mette alle spalle di Dedeo che forse non vede partire neanche il pallone. I ragazzi della coppia Dragone-Scarpantoni ci credono e due minuti dopo è ancora Pellecchia a chiamare al salvataggio l'estremo teatino. I ragazzi di Mister Marino sorpresi dal gol subito a freddo stentano a reagire pur iniziando a premere con una certa decisione. L'unico acuto degno di nota arriva però al 31esimo quando Comini in area giuliese chiama Proietti ad una parata non difficile. Ma i teatini si rifanno al 32esimo quando arriva il pareggio di Varone che ribadisce in rete dopo la respinta del portiere di casa su tiro di fiore. Il derby ed elettrico e così poco dopo arriva il nuovo vantaggio locale con Di Stefano che su perfetto cross di Pellecchia non sbaglia realizzando il gol del nuovo vantaggio giallorosso. Dura però solo 4 minuti la gioia locale visto che al 36esimo fiore ristabilisce la parità colpendo di testa in maniera vincente a due passi dall'incolpevole Proietti. Tutto da rifare per la squadra di casa che però non riesce a creare altri problemi a Dedeo fino al termine del primo tempo. L'avvio di ripresa vede in campo gli stessi 22 di inizio gara. Al terzo c'è un'occasione colossale per l'attaccante del Chieti Dosantos che in area si fa ipnotizzare da Proietti che si immola e salva la sua porta. Rispetto al primo tempo più Chieti che Giulianova con i ragazzi di Marino sicuramente propositivi. Al quarto d'ora ci prova fra gli ospiti ancora Comini che non riesce a dare potenza e precisione alla sua conclusione. Al diciottesimo sulla sponda opposta è Alessandroni a rispondere con un cross che non trova però nessun compagno in area. E così al ventesimo il Chieti mette la freccia con il gol del 3-2 segnato da Ricucci dopo un batti e ribatti dalle parti di Proietti. Si mette male per i padroni di casa che vedono i fantasmi dell'eccellenza visto che al venticinquesimo è ancora Proietti a salvare dopo il tocco sotto misura di Sbardella. I teatini sono padroni del campo e al trentaduesimo c'è ancora un'azione targata Chieti con Comini che crossa in area per Fiore che prova il gol della domenica riuscendo comunque in mezza rovesciata a chiamare Proietti alla parata a terra. L'ultimo quarto d'ora regala ancora emozioni e al trentatresimo arriva quasi insperato così il 3-3 di Marzucco che in fila Dedeo su perfetto cross di Alessandroni che poi al trentanovesimo rifila una gomitata del grosso concludendo anzitempo la sua gara e con il capitano del Chieti e Giuliesse Doc costretto ad uscire sostituito da Varricchio. L'acceso finale regala il generoso forcing delle due squadre con il punteggio che però non cambia. E in casa che Granata ritrovano il secondo posto superano il Matelica dopo 90 minuti di sofferenza pura contro un buon Avezzano che lotta fino all'ultimo minuto. Il Fano ritrova Capitano Lunardini a dirigere la manovra ma deve rinunciare a Borrelli per squalifica e alla Ciaccato Lucci che parte dalla panchina. L'Avezzano che viene dalla vittoria del recupero con Giulianova arriva al Mancini con una ventina di supporters a seguito per cercare punti salvezza. Parte bene la squadra abruzzese. Al primo minuto Bisegna va giù in aria tutto regolare per l'arbitro. Protesta la panchina di mister Ducarelli. Al sesto buona azione del Fano lungo lancio di Nodari da centrocampo per Sivilla. Tiro centrale Davino para a terra. Senza idee e Granata in questa prima fase di gara si sente la mancanza di Lucci e di Borrelli. Rischia il Fano al ventunesimo con un pericolosissimo retropassaggio su cui di Curzio è in agguato ma Marco Antonini esce e libera con i piedi. Al ventiseiesimo Fano vicino al gol col destro di Gregorini. Palla appena a lato. Al ventisettesimo Fallo di mano e ammunizione per Marianeschi che salterà dunque la prossima a campo basso per squalifica. Un lampone finale. Diagonale di Sivilla che fa sospirare il Mancini a quarantaquattresimo. Palla sull'esterno della rete. Il Fano prova a fare la partita in nevio di ripresa. Tanto nervosismo, poche emozioni, fallacce e proteste spezzettano la gara. Si vede il Fano al quattordicesimo con Bartolini che dopo una rocambolesca azione nell'area bianco-verde piazza una fucilata di sinistro che finisce fuori. Al quindicesimo Censori salva su colpo di testa di Lunardini dopo la smanacciata di Davino. La partita si sblocca al diciassettesimo. Gol del Fano firmato da Ambrosini che spiazza l'uno ospite. L'Avezzano butta dentro Puglia per Pollino. Il Fano riprende vigore e tene stretta nella sua metà campo l'undici di Lucarelli. Torta disinnesca di Curzio lanciato verso la porta Granata al ventesimo. Mister Alessandrini rafforza l'attacco del Fano mettendo dentro Gucci per Ambrosini, autore del vantaggio. Ma è l'Avezzano a rendersi pericoloso. Puglia al ventottesimo si gira e tira dalla distanza. Palla a lato. L'Avezzano non intende a rendersi e il Fano perde terreno. Al quarantaduesimo prodigioso Nodari nell'anticipare di testa di Curzio pronto a raccogliere sotto porta il cross di Iommetti. Un minuto dopo parata plastica di Marco Antonini sull'ennesimo tiro dei Biancoverdi in pressing costante. Al novantunesimo si villa giù in area, recrimina il rigore ma l'arbitro lascia correre. Al quarantasettesimo passaggio dorato per Gucci che cavalca il centrocampo, sopra un avversario ma il tiro viene deviato in corner. Il triplice fischio mette fine ad una gara difficile e regala Alfano il secondo posto. Sul centro il basket a due. Salvezza Chieti un tripudio per la vittoria più bella. Tripla di Monaldi a due secondi dalla fine scoppia la festa bianco-rossa. Monaldi autore di 30 punti sigillati dalla tripla sulla sirena e qui le immagini anche di festa nell'immediato dopo partita. Coach Galli il mio primo grazie va ai giocatori, poi un pensiero per lo staff, la società e il pubblico che ci ha sempre accettato per quelli che siamo. Dalla parte opposta invece una domenica amara per Roseto che parte male e fallisce la rimonta. Ferrara primo quarto orribile, poi il recupero ma non basta. Finisce 87 a 85. 32 a 15 il parziale del primo quarto. 11 punti per Allen. Dunque sotto la sua media. 17 di Weaver, 19 per un sempre positivissimo Marini. Trullo dopo il meno 20 abbiamo reagito. L'allenatore recrimina per il brutto avvio e la scarsa mira nel tiro da tre. Per la serie B Pescara tutto Pepe fa suo il derby 72 a 78 a Ortona. Campri schianta Senigallia 92 a 63. Vasto perde di un soffio e si inguaia. BCC sconfitta a Porto Sant'Elpidio 60 a 59. Adesso la salvezza si fa difficile per il podismo. Adugna domina Vivi Città Pescara. Marino sorprende. E infine il messaggero con l'eccellenza abruzzese. Vastese fermata, tutto riaperto contro l'angolana. Non basta il gol sul rigore di Iaboni. I punti di vantaggio in classifica ora si riducono a tre. Terzo pareggio consecutivo. La stanchezza si fa sentire risultato giusto viste le occasioni. Il Paterno fa tris con il Sambuceto. E quindi questa è la situazione dopo 31 giornate. Vastese 67, Paterno 64. Tutto questo quando mancano solo tre giornate alla fine del campionato. E con la Vastese che nella prossima giornata giocherà proprio sul campo del Sambuceto. Mentre il Paterno giocherà sul campo del Miglianico. Finisce qui mattino 6. Vi ricordo le edizioni del TG6 alle 14, alle 19, alle 23. E poi questa sera al 21. Si parlerà del ritorno alla vittoria del Pescara sabato scorso. Nella settimana che porterà all'anticipo di Avellino. Tutto questo che ovviamente riguarda il Pescara. Tutte le considerazioni in replay. La trasmissione di Enrico Rocchi appunto in diretta dalle ore 21. Grazie a Gianni D'Areo in regia e grazie a voi che ci avete seguito. Buona giornata. Grazie a Gianni D'Areo in regia e grazie a tutti.